Come non versare l'Iba sulla vendita dei tuoi corsi digitali, sulla vendita dei tuoi corsi online? Questa è la domanda che sempre più spesso i miei clienti mi fanno nei forum, nei post, nei commenti, direttamente in chat durante le consulenze oppure per email. Ed è un'esigenza obiettivamente che esplosa, soprattutto con il post-Covid, ma in realtà sono tematiche con cui io ho a che fare da una decina d'anni, perché evidentemente internet esiste da un po' prima che il Covid portasse, moltiplicasse l'esigenza di utilizzarlo. Ebbene, questo è un problema importantissimo perché l'Iba, come ripeto sempre io ai miei clienti, è un'imposta con la quale non si scherza, è figlia di una direttiva europea e l'eventuale evasione di Iba provoca delle problematiche che non sono soltanto di natura amministrativa, quindi sanzioni, ma sono soprattutto tematiche di natura, conseguenze di natura penale, cioè in poche parole rischiamo di finire in gabbia, come si dice al Sud, come con questa gestualità che parla la scuola, e quindi è importante sapere perlomeno quali sono i rischi che si affrontano nel momento in cui non verso l'Iba. Ok, è una tematica complessa, è una tematica difficile, cercherò di rendertela, come sempre faccio nei miei video, il più semplice possibile, ma per fare questo ho necessità che tu mi aspetti due secondi dall'altra parte della sigla. Ciao, io sono Luca Tagliera Tela, sei sul canale di Tax Planning Internazionale, oggi parliamo di Iba e corsi digitali, o meglio come dice il titolo, è come non versare l'Iba sulla vendita di due corsi digitali, e non è soltanto un video clickbait, come si dice, è un titolo che, come dicono, cerco di aumentare il numero di visualizzazioni, non è questo il mio interesse, è ovvio che chiaramente alla fine del video ti chiederò di mettere like e di iscriverti al mio canale, ma ti dirò però anche qual è la situazione, qual è lo stato dell'arte oggi sull'Iba nel mondo, attenzione, non soltanto per quanto riguarda l'Italia, e quindi, come dire, sono sicuro che questo video ti piacerà, e riuscirò quindi a meritarmi il tuo like, non lo dimenticare, alla fine del video. Ok? La situazione è piuttosto complessa, facciamo attenzione, quindi chiaramente la cosa da sapere è che in ogni caso non esiste una verità per tutti, ma è sempre necessaria una case by case analysis, quindi il singolo cliente viene da me o da un altro professionista, gli presenta il corso, gli spiega come è strutturato, lo fa a entrare nel corso, e soltanto allora un consulente dovrebbe essere in grado di dare una risposta, per cui non fidiamoci delle risposte ultra generalizzate, iper generalizzate, perché l'Iva è un po' più complessa di così. Ok? E partiamo allora dalla situazione nel mondo, ci sono tre grosse aree, perché il problema è che i corsi online, soprattutto quelli B2C, quindi quelli venuti da business tramite società al consumatore privato, ovunque esso si trova, sono suscettibili di subire un'imposta al consumo, l'imposta al consumo in Italia si chiama IVA, imposta sul valore aggiunto, ma in realtà nel resto del mondo può assumere forme e denominazioni differenti. Oggi voglio parlarti di tre grossi gruppi, partiamo dagli Stati Uniti, che è un mercato evidentemente interessante per molti dei miei clienti, che lo possa interessare anche a te se ancora non lo hai aggredito, dopodiché passeremo ad analizzare il mercato australiano e neozelandese, che hanno delle regole proprie, ciascuna la sua, e poi in ultimo andremo a parlare di quello che accade nell'Unione Europea, vi parlerò non soltanto di quello che accade oggi, ma anche di quelli che saranno gli eventuali scenari possibili e futuri. Per cui mi raccomando, stay tuned, come dicono gli youtuber, e noi ci rivediamo alla fine del video per quanto riguarda l'Europa. Partiamo dagli Stati Uniti, che cos'è l'IVA, cos'è l'imposta al consumo classica degli Stati Uniti? Non si chiama imposta sul valore aggiunto, ma si chiama sales tax. È un'imposta completamente diversa nella sua natura, nel suo funzionamento, rispetto a quella europea, rispetto a quella di altri paesi. Però diciamo che comunque rientra nel numero delle imposti al consumo, cioè si applica unicamente in questo caso nel momento in cui il cliente finale compra il corso online. Gli Stati Uniti sono, come sappiamo, una confederazione di stati, quindi è una confederazione di stati, è uno stato federale. Il problema degli Stati Uniti è che appunto ci sono 50 microstaterelli con delle legislazioni differenti, o meglio con aliquote differenti, perché la buona notizia è che 24 di questi 50 stati hanno recentemente aderito ad un agreement che si chiama SSTUA, cioè Streamlined Sales and Use Tax Agreement, all'interno del quale hanno allineato la loro visione sull'applicazione della sales tax, perché prima era molto differente, quindi ogni volta io rischiavo, a seconda della problematica, di finire in giudizio con una corte diversa che statuiva dei principi differenti. Quindi invece sotto questo profilo, quindi grandi passi in avanti sono stati fatti, e molto probabilmente io mi auspico, chiaramente non soltanto io, che anche gli altri stati seguiranno, in maniera tale che diventerà un po' più semplice per tutti gestire i flussi di IVA, impropriamente detto, ma io di Sales Tax all'interno degli Stati Uniti. Allora veniamo a noi, come si regolano gli Stati Uniti per quanto riguarda l'applicazione della Sales Tax alla vendita di corsi online? Che cosa dice o meglio l'SSTUA? Ok, quindi facciamo attenzione perché quello che dico è valido in quei 24 di 50 stati, negli altri è lievemente differente. Allora, la Sales Tax per quanto riguarda la vendita di corsi online all'interno degli Stati Uniti, questo agreement dice una cosa fondamentale, e cioè mi dice che nella misura in cui riusciamo a trovare un'interazione, quindi l'intervento umano all'interno del corso, nei confronti del cliente, dello studente, meglio, si riesce a non applicare la Sales Tax. Quindi ogni qualvolta esiste un'interazione, per esempio un webinar live tra studenti e insegnanti, o anche solo tra studenti all'interno del forum, ogni qualvolta esiste per esempio una valutazione che non è automatica, quindi non compilo il forum a risposta e chiude, ma c'è un'interazione con un insegnante che mi assegna un grade, e ragionevolmente, di nuovo con le pinze banalizzato o ragionevole asserire, che in questo caso la Sales Tax non va applicata. In tutti gli altri casi in cui invece io clicco un pulsante e scarico il corso immediatamente fruibile a casa mia, allora in quel caso la Sales Tax va applicata. Di nuovo, questo agreement mi dà un'omogeneità di trattamento all'interno dei 24 Stati, ma va fatta comunque un'analisi precisa, sempre case by case, perché in ciascuno Stato comunque l'aliquota è differente, e quindi sono aliquote più basse di quelle europee. A ricordo, diciamo, nell'ultima analisi della settimana scorsa, la Sales Tax va dall'1 fino all'aliquote che possono aggiungere l'8%, se non sbaglio, quindi sono comunque delle aliquote inferiori al 27%, in Europa l'aliquota più alta è quella ungherese che arriva al 27%, però comunque possono incidere sul prezzo finale, per cui se riusciamo a evitarle sicuramente miglioriamo i nostri immagini e anche la nostra competizione sul mercato americano. Il secondo grande gruppo da prendere in considerazione, gli acquirenti evidentemente, quindi la seconda macro-agroge grafica da prendere in considerazione, è quella dell'Australia e della Nuova Zelanda. L'Australia e la Nuova Zelanda sono un po' più transciante, sono arrivati un po' più a gamba tesa, se ne sbattono fondamentalmente di quello che fanno gli americani e di quello che fanno gli europei, che vedremo tra un attimo, mi raccomando, e quindi dicono tendenzialmente mi devi dare l'IVA, automatizzato, non automatizzato, intervieni o non intervieni, mi devi dare questo imposto al consumo, che in nostra si chiama GST, me la devi dare. Questa è la notizia negativa, poi chiaramente nel singolo caso è sempre possibile intervenire, è sempre possibile analizzare la possibilità di evitare legalmente dell'applicazione del corso. Però il vantaggio che ci danno l'Australia e la Nuova Zelanda sono dei threshold, delle soglie anche piuttosto elevate, chiaramente dipende da tutto relativo nella vita, per cui l'Australia mi dice che fino al 75.000 Australian Dollars, che non è tanto lontano comunque dallo US Dollar, siamo esclusi dall'applicazione dell'IVA, quindi c'è una soglia di esenzione, come avviene in Inghilterra se vi ricordate, e per quanto riguarda invece la Nuova Zelanda, il riferimento sono 60.000 New Zealand Dollars, quindi fino a questo volume di fatturato fondamentalmente potete vendere i vostri corsi, evidentemente in lingua inglese, oppure a italiani residenti in Inghilterra, in Nuova Zelanda, senza l'applicazione dell'IVA locale. E passiamo alla terza macro area, quello che poi probabilmente ti interessa di più, soprattutto in termini penali, io voglio ribadire questa problematica, non per farti spaventare, ma perché è importante agire consapevoli. E questo è quello che molti consulenti là fuori non dicono, soprattutto nelle zone medio orientali, senza fare riferimenti particolari a nessuno. Il problema qual è? È che molto spesso si crede che, andando a vivere in paesi extra-UE, in realtà anche in paesi UE, ma soprattutto nei paesi extra-UE, ci troviamo a confrontarci con consulenti che ci dicono non ti preoccupare se non applichi l'IVA in Europa, tanto il fisco non lo sa, non ti può controllare, non ti può trovare, non hai responsabilità. Allora non è così, questa è la brutta notizia che voglio darti oggi, brutta per chi chiaramente ha intenzione di evadere, senza se e senza ma, buona per gli imprenditori conscienziosi che applicano la normativa. Bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione perché il fisco sta affilando le unghie, gli artigli, perché l'evasione, la soglia, i numeri dell'evasione fiscale in termini di miliardi di euro, evasi all'anno, sono praticamente incalcolabili e quindi evidentemente si sta arrivando, ma questo già da tempo, se seguite i miei video, si sta arrivando a tracciare l'IP address di chi compra. Come si farà, quando si farà, evidentemente non è scritto da nessuna parte, però quella è la direzione e soprattutto anche la responsabilità sta aumentando, aumentano la cooperazione tra stati, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, quindi facciamo attenzione, non diamo per scontato che se non versiamo l'IVA non ci succederà niente perché soprattutto se siamo italiani e domani magari vogliamo ritornare dopo alcuni anni trascorsi all'estero perché abbiamo fatto i soldi e ci vogliamo tornare a spendere in Italia, allora facciamo attenzione alle conseguenze di un'eventuale evasione IVA perché è una cosa che potrebbe perseguitarci anche per molti anni, comunque il termine dell'accertamento può raddoppiare, si può arrivare a 10-12 anni di accertamento su un singolo periodo di imposta, per cui watch out, mi raccomandovi, non crediamo a quelli che ci dicono non succede niente, non ti preoccupare, non te la faccio versare perché dovrebbero finire in galera prima loro e poi Dio non voglia voi se vi dovessero accertare, ok? Quindi che cosa succede in Europa? Qual è l'atteggiamento che c'è in Europa sull'applicazione del VAT? Allora, come tutte le cose evidentemente è sempre un'area grigia, non si sa, è un casino che la metà basta perché purtroppo il concetto di certezza del diritto è un principio che ahimè comunque ha una certa mancanza all'interno degli organismi di civil law e questo purtroppo è lo stato dell'arte, ma non ci dilunghiamo su cose che già conosciamo, che cosa succede in Europa sull'applicazione del IVA dei corsi online. Il principio di fondo, che poi si deriva dall'articolo 54 della direttiva in Italia trasposto dall'articolo 7.5 del DPR 7.3 del 72 cosiddetto diritto IVA a cui ti rimando, il principio di base è nella misura in cui, diciamo che fa un po' il verso a quello americano, ok? Quindi nella misura in cui il corso è immediatamente downloadabile, immediatamente fruibile, quindi io, consumatore, clicco il tasto, pago e me lo vedo a casa mia senza se, senza ma, senza interagire con nessuno e allora è pacifico che quel tipo di corso rientri nei servizi elettronici, per cui lì dobbiamo tendenzialmente applicare l'IVA in Italia o nel paese del compratore, a seconda di ciascuno dei 27 dei paesi dell'Unione Europea ciascuno applica la sua aliquota e amen, questo diciamo è abbastanza pacifico. Il problema si pone invece tutte quelle volte in cui c'è un intervento umano, un minimo intervento umano all'interno del corso, quindi l'interazione con un docente in un webinar live, l'interazione degli studenti tra di loro, dei test a risposta aperta, eccetera eccetera. Più l'elemento di intervento umano aumenta e più è possibile che quel corso venga considerato non un servizio elettronico ma di una prestazione didattica che scontaliva nel luogo di materiale esecuzione del corso. Ora, sull'interpretazione di questa locuzione, luogo di materiale esecuzione del corso potremmo perderci un paio di mesi, cosa che chiaramente non va né a me perché di solito per perderci questo tempo mi faccio pagare né tanto meno a voi che comunque non avreste né la voglia di sentire l'analisi della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quindi cerchiamo di capirci qual è il problema. Premestro che, come vi dicevo all'inizio, il consulente deve entrare nel corso, deve vedere come è strutturato per potervi dare un giudizio oggettivo, quello che dovete sapere è che tendenzialmente il luogo di materiale esecuzione, se i docenti non sono in Italia, allora sarebbe da individuare con il luogo in cui si trovano i docenti. È chiaro che se i docenti si trovano in Italia legge son fe e quindi l'IVA va versata in Italia, andrebbe versata in Italia, vi ripeto, siamo nell'ottica dell'interpretazione. Però è ragionevole pensare che nella misura in cui i docenti che per esempio su piattaforme online si trovano in paesi non italiani, si sono fiscalmente residenti in paesi non italiani e allora si può asserire che l'IVA fondamentalmente va versata nel paese del prestatore, quindi non in Europa, nel paese in cui si trova il prestatore del servizio. Questa è la buona notizia, la cattiva notizia è che questo orientamento al 99%, questa interpretazione al 99% non sarà sposata dalla nostra chiarissima agenzia delle entrate e quindi probabilmente si porterà ad individuare, perché io già lo so dove voglio andare a parare, il luogo di materiale di esecuzione con quello in cui si trovano gli studenti. chi ha ragione probabilmente poi lo vedremo in contenzioso, però facciamo attenzione perché non è così scontato oggi, soprattutto sull'IVA che come dicevo è un imposto con la quale non si scherza e quindi è necessario entrare ogni volta nello specifico del singolo corso. Io sono Luca Tagliatela, spero di averti dato una visione a tutto tondo della problematica IVA sulla vendita dei corsi digitali, spero che tu abbia avuto la pazienza di arrivare fino a qui perché se l'hai fatto può veramente averti cambiato la tua prospettiva di business attuale e futura. Se così è stato clicca like al video e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci rivediamo nel prossimo video con nuove preziosissime informazioni per l'evoluzione del tuo business digitale. A presto!